Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Nei giorni in cui si è discusso di Recovery Plan, il Parlamento si è occupato anche degli ordini del giorno presentati da Giorgia Meloni, la mozione di sfiducia presentata sempre dal partito di Fratelli d'Italia. Il ministro per i rapporti con il Parlamento d'Inca è andato in Senato per rimediare a quello che stava per succedere. Quindi, pur di scongiurare un problema ancora più serio, parla con il Premier Mario Draghi e con Giancarlo Giorgetti, il numero due della Lega. Dice però qualcuno, se Giancarlo è d'accordo non è detto, lo sia, Matteo. Infatti Salvini, per non lasciare argomenti alla Meloni, non ha detto sì al compromesso di Forza Italia e ha minacciato anche di votare la mozione di sfiducia presentata da Fratelli d'Italia contro il ministro della Salute. Salvini non vuole rompere. Qualcuno dice che gli è già bastato il papete essere uscito dal governo Conte 1 si è ritrovato all'opposizione dopo l'accordo tra PD e 5 Stelle, qualcosa che era impensabile ai tempi, era poi successo. Salvini non vuole rompere, però non può oltrepassare certi limiti. Ma c'è un motivo se Giorgetti si è lasciato andare a quel sedura, scrive il Corriere della Sera. La preoccupazione della Lega è che questo governo sia un po' inclinato verso sinistra, che accontenti quelli che erano con Conte. Insomma è un po' quello che dice anche Giorgia Meloni, un governo tendente a sinistra che ha anche i numeri per far approvare le idee della sinistra. Il riformismo calato dall'alto è sempre destinato alla sconfitta, dice il viceministro dell'Economia, Misiani del PD, durante il dibattito sulle recovery plan. Se le riforme programmate da Draghi e che accompagnano il recovery non venissero varate, il debito pubblico andrebbe fuori controllo. E purtroppo il sentiero delle riforme è in salita, dice il renziano Marattin. Poi c'è il fattore tempo, che non è indifferente. Ci sono molte cose da fare, dice Marattin, tra maggio e giugno. Ecco perché in Senato Draghi ha sottolineato che il piano si può attuare solo se c'è volontà di successo. Ed ecco il timore di quel sedura con cui Giorgetti avvisa dura. Avvisa tutti? Perché se la Lega si sfila per l'Italia non esiste un piano B. Questo è il problema. Se la Lega esce dal governo, e esce Forza Italia, con tutti quelli che hanno mandato via dei 5 Stelle per le rendicontazioni, perché di qua, perché di là, tra quelli che se ne sono andati, tra Paragone, Renzi, che voterebbe con il centrodestra, il governo non esisterebbe più. Se la Lega si sfila è l'inizio del patatrack. E così Giorgetti avvisa tutti, non esiste un piano B. Draghi sì, ha avviato i vaccini. Però il recovery plan non è solo mandarlo in Europa. Poi ci vuole un personaggio, come Draghi, che deve togliere l'ideologia davanti agli occhi dei partiti e attuare tutto quello che c'è scritto nel recovery plan. Se dovesse esserci un presidente del Consiglio diverso da Draghi, che fa capo alla coalizione di centrodestra o alla coalizione di centrosinistra, l'altra parte politica ostacolerebbe qualsiasi cosa sul recovery plan. Sta facendo male, così non va bene, così non lo facciamo. Impedirebbe tutte le riforme e impedirebbe qualsiasi attuazione di questo piano. Per far vedere che quella parte politica che ha vinto le elezioni non è capace. E questo andrebbe a danno di chi? A danno dell'Italia e degli italiani. Abbiamo visto troppe volte il paese andare avanti in questo modo. Ogni legislatura, la parte politica che non ha vinto le elezioni, ostacola l'altra. Anche se sono magari cose giuste, vengono ostacolate. Una persona molto corretta sotto questo aspetto è Giorgia Meloni con Fratelli d'Italia. Giorgia Meloni ha questa caratteristica. C'è stato Di Maio che qualche volta ha fatto delle cose giuste e lei ha detto bravo Di Maio, complimenti per quello che hai fatto. Ieri ha detto complimenti Draghi per la storia della Francia. E quindi Giorgia Meloni ha questa capacità di dire che chi ha ragione ha ragione di fare i complimenti, non andare avanti col paraocchi ideologico. Dire no, loro non hanno mai ragione. No, non è vero, voi non avete mai ragione. Perché una delle cose che si sente dire spesso è Salvini non può avere ragione. In nessun caso, sotto nessun aspetto, in nessun argomento, lui può avere ragione. In quanto il pensiero di una parte politica è che Salvini è cattivo, è il male. Non si può ragionare con lui. Invece è tutta una costruzione ideologica che costruiscono appunto taluni. E Giorgetti avvisa Attenzione, non c'è un piano B. Se salta questo governo siamo veramente in un problema insormontabile. Dice, andiamo alle elezioni, sì, ma il problema è che facciamo fare a Draghi, facciamo avviare i cantieri, o magari il ponte di Messina. È un mio sogno che ho da vent'anni, il ponte di Messina. Però, insomma, io mi sono fissato col ponte di Messina, il ponte sullo stretto. Sarà per tutte le volte che sono stato in Sicilia, tante stati fatte a Cefalù. Sapete dov'è Cefalù? Sicuramente c'era anche qualcuno di Cefalù. Io prendevo, io, i miei genitori prendevano una casa, si chiamava, io lo chiamavo ai tempi le case marrò, le case marroni. C'è un complesso, magari adesso hanno cambiato anche colore, non sono più le case marroni. Una volta erano le case marroni, erano quasi tutte in affitto, e noi stavamo lì un mese e mezzo, un mese e mezzo in vacanza in Sicilia, ogni anno, per tanti anni, abbiamo fatto per sei, sette anni, proprio nella spiaggia di Cefalù. La sera la passeggiata, nel corso, il budello, ci fermavamo al bar da Enzo, da Enzo Serio, forse mi sto confondendo i nomi, nella piazza della cattedrale, la cattedrale Normanna, c'è un bar da Enzo, da Enzo Serio, adesso non mi ricordo bene, c'è questo bar con tutti i tavolini fuori, tutte le serate passate lì, ogni tanto facevano anche qualche concerto. Così vi ho raccontato di qualche reminiscenza di un passato lontanissimo ormai. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata.